Doveva chiudersi lo scorso 2 di agosto, ma visto il grande afflusso a furor di popolo, la mostra Il Ponte della Gioconda di Piero Franchini, allestita presso il Fotoclub La Chimera, è prorogata di un'altra settimana. Al suo interno non solo suggestive foto di Ponte Buriano, ormai conclamato come Il Ponte della Gioconda, ma anche gli studi del compianto professor Carlo Starnazzi. Proprio a lui sarà dedicato finalmente un museo che racchiuderà anche le macchine idrauliche di Leonardo. Una è già stata ricostruita proprio presso il Fotoclub La Chimera. Questo è un segno che praticamente lui già lavorava e pensava al quadro della Gioconda già quando aveva disegnato la cartina della Valdichiana. E quindi ecco perché è evidenziato benissimo sulla cartina il Ponte Buriano. Allora, questa macchina troverà la sua collocazione all'interno del Museo Leonardo e l'Aretino negli studi di Carlo Starnazzi, che avrà sede nella scuola elementare di Ponte Buriano. E all'interno di questa mostra, che è una rassegna completa di tutti gli studi di mio marito, si spera che troverà collocazione non solo questa macchina, ma visto che l'ingegnere e l'amico sono così ben disposti, possono realizzarne anche altre.